Da oltre 90 anni supportiamo le persone che lavorano all'aria aperta, in agricoltura, nelle foreste, nei giardini o nei cantieri. Produciamo prodotti sui quali poter fare affidamento. La proverbiale qualità Made by Steel è la nostra promessa da diverse generazioni, con costanza e con la cura dei più piccoli dettagli. Agli inizi del XX secolo il lavoro manuale nelle foreste era ancora molto faticoso. Quando il giovane ingegnere Andreas Steel vide ciò con i propri occhi, capì che voleva creare una macchina per facilitare il lavoro dell'uomo nella natura. Con questa visione in mente fondò la sua azienda nel 1926 e presto sviluppò le motoseghe che rivoluzionarono il settore. Specialmente la leggendaria Contra, il modello con cui Steel, il padre della motosega, conquistò il mercato internazionale. I suoi figli trasformarono l'azienda tedesca in una multinazionale globale, ancora al 100% di proprietà familiare, ma gestita dal 2002 da un comitato esecutivo i cui membri non appartengono alla famiglia Steel. Questa, giunta oggi alla terza generazione, guida le più importanti decisioni strategiche dal comitato consultivo e dal consiglio di sorveglianza. Dal 1971 Steel è il marchio di motoseghe più venduto al mondo. Ci sentiamo a casa nel mercato globale, siamo presenti in più di 160 paesi con oltre 15.000 dipendenti. A presto! La massima qualità è un obbligo. Ogni dettaglio conta. Le idee per i nostri prodotti vengono messe in pratica dal centro di sviluppo di Weiblingen. Qui i nostri prodotti sono sviluppati, accuratamente testati e predisposti per la produzione in serie, sempre con un'attenzione particolare a funzionalità, prestazioni, sicurezza, convenienza e sostenibilità. La curiosità, l'impegno, le conoscenze e le capacità dei nostri dipendenti sono alla base del nostro successo. Il network della nostra produzione è mondiale. I componenti delle nostre attrezzature sono prodotti con l'utilizzo della tecnologia più all'avanguardia. Questo per prodotti interamente costruiti da noi o in cooperazione con fornitori fidati. La maggior parte dei quali lavora con noi da decenni. Produciamo nei nostri impianti in Germania, Svizzera, Austria, Stati Uniti, Brasile, Cina e Filippine, con un'integrazione verticale di oltre il 50%. Che si tratti di parti in acciaio, plastica o magnesio, di pistoni, cilindri, asterigide, carburatori, spranghe o catene, tutto è di ottima qualità, garantito dalla nostra esperienza e da un sofisticato processo di controllo qualità in tutti i processi aziendali. Tutto ciò è qualità stil. Un prodotto stil è qualcosa di speciale, è un prodotto per la vita. E un prodotto di prima categoria richiede consigli, istruzioni e servizi. Questo è possibile solo grazie alla cooperazione con oltre 40.000 rivenditori specializzati in tutto il mondo. Sono supportati dalle nostre filiali che li sostengono localmente offrendo corsi di formazione e assicurandosi che ogni rivenditore specializzato abbia accesso a tutti i prodotti stil, agli accessori e ai ricambi che il cliente richiede, siano essi prodotti a benzina, elettrici o batteria, nuovi o usati. Siamo qui per voi. Potete contare sul di noi anche in futuro. Promettiamo la qualità stil. Sempre.